Nella vostra piattaforma voi avete sviluppato alcune funzionalità specifiche per i consulenti indipendenti, ce ne può parlare? Sì, è una nuova piattaforma, si chiama D-Pro, vuol dire directa per i professionisti ed è una piattaforma molto semplice che ha l'obiettivo di mettere in contatto il consulente indipendente con il proprio cliente. Mettere in contatto nel senso di poter collegare la piattaforma del consulente con il proprio cliente che ha il conto ovviamente con directa e il consulente in modo molto intuitivo, molto facile, semplicemente attraverso un foglio Excel può andare a raccomandare scelte investimento, creare un portafoglio modello, suggerire un investimento specifico al proprio cliente, invia questo file Excel alla piattaforma di directa e noi non facciamo altro che processare questo foglio, metterlo nel conto del cliente, il cliente riceve una mail, apre questa mail e si apre la piattaforma di trading e troverà già preimpostati gli ordini di acquisto e vendita suggeriti dal proprio consulente e se li vorrà accettare con un solo clic che diventeranno degli ordini che vanno a ribilanciare il portafoglio e aggiornare la sua posizione. È una piattaforma che ovviamente mi fido due compliance e soprattutto rende molto sicura l'attività del consulente da una parte che non ha la possibilità di interagire con il conto del proprio cliente e al cliente dà la possibilità di eseguire suggerimenti e raccomandazioni in totale libertà, quindi nessuno ha la possibilità di interagire sul suo conto senza che lui lo voglia. Ecco, alla luce di tutto questo diciamo, la consulenza Fionli che tipo di futuro può avere nel nostro paese e in Europa anche. Noi siamo un broker online nato 22 anni fa che ha dato per prima la possibilità al cliente privato di comprare e vendere strumenti finanziari sul mercato in totale autonomia, quindi è nel nostro DNA lasciare libera scelta al cliente e pensiamo che in futuro dove sicuramente il ruolo della consulenza crescerà di importanza, la consulente indipendenza andrà ancora più velocemente perché ovviamente il cliente ha bisogno comunque di essere assistito, un'assistenza priva da ogni conflitto di interesse e il consulente indipendente lo è, quello che noi pensiamo è che avrà bisogno di un supporto tecnologico quindi il fintech avrà sempre più rilevanza per il consulente indipendente e Direkta vuole essere un player proprio con questa finalità, dare un supporto tecnologico operativo al consulente indipendente.